Penso che per me non è giusto fare una comparazione con l'oltre stagione. Anche io non posso parlare di altre stagioni perché non conosco profondamente la realtà di questa stagione. Io conosco questa stagione e penso che tutti noi sappiamo che abbiamo cambiato tanto. Questa stagione abbiamo fatto tante cose bene e la mia preoccupazione è ritornare a fare tutto bene. Non dimenticando che siamo all'inizio di un progetto. Io ho parlato adesso per me di una cosa che è importantissima qui. Fare capire che per la squadra una sconfitta è solo una sconfitta. Dobbiamo analizzare la sconfitta. Non possiamo stare soddisfatti quando non vinciamo. Ma la sconfitta qui non può essere tanto pesante. Non può influenzare dopo il futuro. È un problema che stiamo lavorando per cambiare questa mentalità. La squadra è una squadra molto agressiva. È una squadra che per me è una delle migliori in contrapiede. E penso che domani sarà una squadra di contrapiede. È molto pericolosa con i giocatori in attacchi molto forti. e penso che possiamo aspettare una squadra che giocherà in contrapiede. Se Zagnolo era con noi nella partita era perché era pronto per giocare. È vero che non è pronto per giocare molto tempo. Ha giocato il tempo giusto, 30 minuti in questo momento. È giusto per Zagnolo. Non può giocare più in questa partita con Napoli. Ha giocato, ha giocato bene. È vero che non sta nella migliore condizione fisica. Ma ha giocato bene.